Una tecnica operatoria che consente di far risparmiare denaro al servizio sanitario pubblico e di operare pazienti altrimenti insperabili. Ciò nonostante le regioni del mezzogiorno non sono ancora pronte e non riescano a far decollare gli interventi. La tecnica si chiama TAVI, acronimo di impianto transcatetere di valvola aortica. Serve appunto a contrastare la stenosi aortica. In Campania parte in questi giorni un progetto denominato TAVI e Vita e che porta nei capologhi della nostra regione la settimana della salute. Il professor Plinio Cirillo, associato presso la cattedra di cardiologia della Federico II e Gerolamo Sibilio, direttore UCUTIC con emodinamica a Pozzuoli, ASNapoli 2 Nord. Questi pazienti hanno oggi un'opportunità ulteriore di prolungare la propria vita con una qualità della vita che risulti essere la migliore possibile, che è quello che poi noi vogliamo ottenere attraverso un intervento che è minimasivo. Dopo i 65 anni abbiamo circa un milione di persone che hanno questa alterazione e la valvola. È la valvola che consente al cuore di espellere il sangue e portarlo in tutte le parti dell'organismo. E questa valvola si può restringere a tal punto che poi deve essere sostituita. E questo succede nel 2% della popolazione. Il format campano dell'iniziativa presenta una novità importante. La settimana della salute coinvolge infatti, oltre ai cardiologi interventisti del GISE e ai cardiochirurghi della SIC, per la prima volta anche i medici di medicina generale, pronti per visite e consulti gratuiti. Giuseppe Caffarella, O.C. Cardiochirurgia Generale dell'Azienda dei Colli. Il trattamento dell'astenosi valvolaria ortica è essenzialmente chirurgico. Il gold standard è considerato appunto la chirurgia. Ovviamente in alcuni casi, specialmente quando aumenta il rischio di mortalità o di morbidità per patologie associate, per patologie complesse, è possibile oggi e già da un po' di anni trattare l'astenosi aortica non con l'intervento chirurgico tradizionale, appunto, ma con la TAVI.